buongiorno a tutti amici di vanilla domenica 11 luglio 2021 si disputerà la finale degli europei di calcio fra italia inghilterra una partita che potrebbe dare agli azzurri il loro secondo trofeo continentale dopo quello del 68 oppure il primo trofeo ai 3 lions inglesi avevo promesso che nel caso in cui la nazionale fosse arrivata in finale avrei fatto un video dedicato ed eccomi qui in un campo da calcio di una parrocchia di quelli che hanno i pali della porta ma non le reti uno di quelli in cui i tanti campioni muovono i primi passi mentre preparavo questo video mi chiedevo che valori di mercato potessero avere i cartellini di giocatori delle nazionali e ho trovato cifre dettagliatissime sul sito di euro sport gli inglesi sono quelli con la rosa nettamente più costosa con un monte cartellini di oltre un miliardo di euro precisamente 1270 milioni mentre gli italiani arrivati un po sorpresa in finale sono sesti dietro appunto l'inghilterra poi la francia la germania la spagna il portogallo con un monte cartellini azzurro che si attesta sui 771 milioni di euro in ogni caso mica bruscolini oggi l'industria calcistica vale miliardi di euro ed ha lavoro a decine di migliaia di persone uno sport è seguito in tutto il mondo da miliardi forse di appassionati fa sorridere quindi pensare alla prima trasferta della nazionale e vi farà ancora più sorridere ascoltare in quali condizioni i nostri campioni di cent'anni fa raggiunsero l'ungheria mi raccomando a parte la storia del gioco del calcio se ancora non vi siete iscritti a vanilla iscrivetevi al nostro canale grazie mille la nazionale di calcio italiana nasce ufficialmente il 13 gennaio del 1910 quando sulla rivista football organo ufficiale della figici il presidente luigi bosizio e il segretario arturo baraldi annunciano la costituzione di una commissione tecnica incaricata di selezionare i migliori giocatori italiani per dare vita a una squadra nazionale sul modello di quello che già da qualche decennio si stava diffondendo nel regno unito e nel nord europa tale commissione tecnica è composta da ex giocatori divenuti arbitri dato che di allenatori ancora non se ne parla ne fanno parte umberto meazza alberto crivelli agostino recalcati giuseppe gama e giannino campello il giovane meazza nato nel 1882 a milano sarà designato allenatore dagli altri non è un buon momento per cominciare una simile avventura durante le selezioni dei giocatori è esplosa la grana provercelli la squadra piemontese una delle più forti del campionato doveva disputare la finale scudetto con l'internazionale di milano ma ha chiesto ripetutamente di far spostare tale incontro per poter disporre di alcuni dei suoi giocatori che in quel periodo stavano disputando dei tornei militari che a quel tempo erano diffusissimi non ottenendo il rinvio il 24 aprile del 1910 il presidente bozzino ha schierato una squadra composta da ragazzi delle giovanili età media 11 anni che ovviamente ha perso 10 a 3 la federazione reagisce alla protesta squalificando tutti i vercellesi dirigenti e giocatori fino al 31 dicembre dello stesso anno meazza e gli altri devono fare quindi a meno dei fortissimi vercellesi i giocatori che in quel periodo esprimevano il calcio più atletico e moderno tra l'altro sono considerati gli inventori del pressing e dei primi schemi di gioco soprattutto sui calci da fermo e attingono soprattutto alle squadre di milano e di torino inizialmente dividono i convocati in due compagnie i probabili e i possibili che fecero incrociare in alcune partite amichevoli al termine delle quali uno dei possibili enrico de bernardi toglie il posto di titolare al talentuoso ma discontinuo franco bontadini uno studente di medicina appena 17enne che era stato inizialmente inserito fra i probabili quando finalmente la squadra scende in campo contro la francia il 15 maggio del 1910 davanti ai 4000 spettatori dell'arena civica di milano la formazione presenta il portiere mario de simoni i defensori francesco cali capitano coetaneo del mister meazza e unico giocatore di una compagine genovese l'andrea doria franco varisco virgilio fossati e attilio tre re i centrocampisti domenico capello enrico de bernardi unici rappresentanti del torino e giuseppe rizzi gli attaccanti aldo cevenini pietro lana e arturo boiocchi otto giocatori su undici provengono da squadre milanesi la divisa è composta da maglia e calzoncini bianchi ancora oggi la divisa di riserva della nazionale con calzettoni scuri la maglia azzurra arriverà solo l'anno seguente nel 1911 arbitra l'inglese harry goodday i francesi i francesi sono piuttosto accreditati hanno molta più esperienza internazionale degli italiani ma la lunga e scomoda trasferta in treno li ha stancati gli italiani poi hanno dalla loro l'entusiasmo giovanile e il tifo indiavolato del pubblico è il tredicesimo quando il 23enne pietro lana un piccoletto sgusciante soprannominato fantaccino già autore del primo gol in un dermi milan inter porta l'italia in vantaggio sette minuti dopo il capitano dell'inter l'altissimo e atletico 21enne virgilio fossati che nella vita fa il ragioniere mette a segno il secondo gol il primo tempo finisce 2 a 0 per i futuri azzurri nella ripresa i francesi tentano la rimonta e al 49esimo accorciano le distanze con un gol del veterano harry belloc ma dieci minuti dopo l'ana ristabilisce le distanze passano altri tre minuti e jean du cruet astro nascente della compagine francese segna il 3 a 2 che sembra riaprire la gara ma poi emerge la miglior tenuta fisica degli italiani che nell'ultima fase dell'incontro segnano ancora quattro volte con rizzi de bernardi e ancora lana finisce 6 a 2 nel tripudio degli spettatori la larga vittoria fa montare un po la testa a tutti dai vertici della figici alla commissione tecnica per arrivare ai giocatori stessi e si decide di accettare immediatamente l'invito appena ricevuto dalla federazione ungherese per disputare un altro incontro contro quella nazionale a budapest il 26 maggio appena 11 giorni dopo il primo la federazione italiana gioco calcio come veniva chiamato allora a entusiasmo ma non ha molti mezzi nonostante il successo di pubblico neanche l'incontro di milano è riuscito a rimpolpare un po le sue magrissime casse bosizio e baraldi per mandare i giocatori di e il mister meazza in ungheria pur raschiando il fondo del barile riescono al massimo ad acquistare dei biglietti ferroviari di terza classe per cui i nostri giocatori dovranno viaggiare per una giornata e una nottata intere seduti su panche di legno la nottata è proprio quella tra il 25 e il 26 maggio perché non ci sono neanche i soldi per sistemare tutti in un albergo e nemmeno per mandare al ristorante per risolvere il problema del cibo bosizio e baraldi si rivolgono a uno dei giocatori stessi attilio tre re che ha un amico salumiere questi dopo un po di trattative pratica un prezzo di favore e fornisce alla nazionale abbastanza salumi e formaggi stagionati da riempire una valigia trascinando la quale tre re raggiunge i compagni direttamente alla stazione ferroviaria centrale di milano la valigia delle vettovaglie sarà la principale preoccupazione dei giocatori durante il viaggio visto che i vagoni di terza classe sono pieni di ladri per tenerla sempre d'occhio tre re un certo punto ci si distende sopra cercando di dormire i ladri allora si dedicano ad altri obiettivi e rubacchiano qualcosa dai bagagli personali di giocatori spariscono tra le altre cose le scarpe da gioco di fossati sfiniti e mezzi addormentati gli azzurri scendono in campo nel pomeriggio del 26 maggio e trovano anche un terreno umido e scivoloso perché sono giorni di pioggia fossati che indossa le scarpe da passeggio in mancanza di alternative scivola e cade ogni due passi si fa male l'attaccante cevenini e nel secondo tempo deve essere sostituito da un difensore sedicenne che farà molta strada renzo de vecchi che sarà chiamato il figlio di dio per la sua classe e nel giro di 15 anni ma con la guerra di mezzo disputerà la bellezza di 43 partite in nazionale sarebbe più o meno come giocarne 150 adesso alla fine del primo tempo i maggiari già conducono due a zero poi ne fanno altri quattro prima che rizzi salvi l'onore con il gol della bandiera a due minuti dalla fine finisce 6 a 1 per gli ungheresi arbitro della gara l'austriaco ugo maisel sarà poi un ottimo ct della sua nazionale che sotto la sua guida finirà quarta ai mondiali del 1934 mondiali nei quali l'italia risulterà vittoriosa e apporrà la prima delle sue quattro stellette della divisa ma questa è un'altra storia